Sono Rosiglio Ramazzano, poeta, scrittore e anche magistrato di Roma. Sono Pagano, è un grande viaggiatore. Qui a Casunnavo andrò a visitare le Terme. Sono bellissimo. Per Roma ho scritto una bellissima ode. Venite, venite qui nel foro, al centro di Casunnavo, dove si svolge la vita pubblica della città. Ascoltatela tutti. La prima volta, l'articolo forno dei bagnoli, loro regge sono enorme. Enorme? Sì, come loro panci. La città? La città si spostate, magna e ruttus, attila, ditte, 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 e non manchene, i sottili, quando un di regne. La città si spostate, magna e ruttus, attraverte il regno. La città si spostate, magna e ruttus, attraverte il regno. La città si spostate, magna e ruttus, attraverte il regno. La città si spostate, magna e ruttus, attraverte il regno.